Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Cacciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Porrettana chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info